Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è venerdì 6 dicembre, ci stiamo avvicinando al Natale, 19 giorni e poi sarà Natale, ma intanto noi andiamo avanti con il nostro tram tram quotidiano fatto anche di informazione, informazione locale, come quella che sta per iniziare tra poco con la lettura dei giornali. Prima però un altro tipo di informazione, quello del Santo del Giorno, perché oggi è San Nicola, oggi è San Nicola ed è un santo conosciuto, ma anche un santo che ci dà la possibilità di fare gli auguri per esempio di buono mastico a tutti Nicola che conosciamo. Nicola che nasce nell'attuale Turchia, all'epoca Licia, in Asia minore, verso il 270. Il sole sorgerà perché ci segue in diretta alle 7.26, tramonterà alle 16.31. Il tempo, ci stiamo avvicinando anche a un weekend, quello dell'Immacolata, un giorno di festa, anche se poi accade di domenica, ma insomma, tra sole e qualche locale pioggia al centro-sud, questo è Trebbi Meteo, mentre nello specifico questa mattina un po' di pioggia in provincia di Pesaro, nell'entroterra pesarese, ma anche sulla costa anconetana, così come sui Sibillini. Un po' di tempo brutto al mattino con locali piovaschi, brevi rovesci, poi però il tempo andrà man mano migliorando. Avremo ancora temperature comunque stazionarie, minime, ma le massime in lieve aumento. Per quanto riguarda i venti, oggi, su tutta la fascia costiera, avremo venti da nord, di brezza tesa, in rotazione però da sud durante la serata. Ecco perché le temperature sono in aumento, con questo vento che soffierà nella giornata di sabato, che porterà cielo comunque sereno, poco nuvoloso, sulla costa, invece perturbato lungo il crinale appenninico. La giornata di domenica, 8 di dicembre, dunque festa, si presenta, secondo la protezione civile delle Marche, che si presenterà con cielo sereno sulla costa e sul resto della regione. Lunedì, in particolare al mattino, avremo condizioni di instabilità, poi però arriverà subito il miglioramento. Velocemente, le previsioni delle temperature per la giornata di oggi alle ore 14. Vedete, sono temperature comunque meno rigide rispetto a ieri, anche se sui monti siamo intorno ai 7 gradi, ma sulla costa intorno ai 14-15 gradi. Ci stiamo avvicinando, dicevamo, all'8 dicembre. 8 dicembre che per noi delle Marche, per noi della provincia di Pesore e di Ancona, inevitabilmente rimarranno per molti anni a venire una data che porta a un ricordo straziante, che è quella della tragedia di Corinaldo. I giornali in questi giorni ci stanno ricordando, in particolare questo evento, con racconti ed interviste. Anche oggi tante pagine sono dedicate a questo evento. Questa tragedia, stavo pensando all'evento che invece è organizzato dal Comune di Fano, in collaborazione con la famiglia Vitali, per ricordare la quindicenne fanese scomparsa. Di questo si parla, ma si parla anche di altro. Ma partiamo da una segnalazione che è arrivata da un nostro reporter di strada durante la notte. Qui siamo in via Puccini a Fano. Come vedete un camion dei Vigili del Fuoco è fermo in mezzo alla strada, perché ecco il primo fumo che si intravede da questo cassonetto. Ebbene sì, il piromane, questo folle sconosciuto che continua a fare indisturbato, ad incendiare indisturbato i cassonetti, soprattutto nella zona del mare, ha colpito anche la notte scorsa, anche la notte che abbiamo appena lasciato. Erano intorno alle 1.40, 1.45, poco prima delle 2 insomma di questa notte. Il piromane ha incendiato questo bidone, questo cassonetto dove all'interno era contenuta della plastica. Il bravo cittadino ha chiamato il 115 e poi ha avvertito anche i carabinieri di Fano. Ha segnalato questo episodio anche ai carabinieri di Fano. Quindi nessun allarme in linea di massima. Ma comunque, ecco, questo grazie anche all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. C'era un forte d'oreacro ovviamente in tutta la via. L'intervento si è concluso senza problemi. Andiamo subito velocemente a leggere i quotidiani. Questo è il Carlino di Ancona. Quei nostri figli morti in disco, strage di Corinaldo alla vigilia del primo anniversario. Parlano i papà di Mattia Orlandi ed Emma Fabini. Ma centropagina la piazza delle Sardine con oltre 2.000 persone ad Ancona. Loro dicono i partiti inizino ad avere paura. Giorgia Meloni dice il candidato per governare le Marche sarà nostro. Questo invece è Macerata, sotto sfratto. L'appello di quest'uomo che si chiama Alberto Monachesi. Ha 66 anni, vive in una casa popolare a piedi ripa di Macerata. L'Erap gli ha inviato una diffida. Lui dice sono solo e malato, rischio di perdere la casa popolare. E poi c'è un articolo interessantissimo, daremo un'occhiata dopo. Nell'edizione di Macerata di oggi del Carlino. I falsari del web sono stati oscurati dalla procura a 98 siti. In vendita c'erano milioni di prodotti contraffatti di notti marchi. Scattano sequestri dalla Francia fino a Panama. Questo invece è il resto del Carlino. Mattia, un anno dopo la stessa rabbia, genitore del ragazzino morto a 15 anni a Corinaldo, ucciso da chi non ha rispettato le regole. Tentò di disarmare un poliziotto. È stato condannato l'aggressore di Via Rossi. Pena di tre anni e quattro mesi. A centropagina, dopo l'esonero del coach della VL Perego, Costa annuncia l'arrivo di Sacco. Giancarlo dice che Costa potrà aiutarci e dunque darà la scossa a tutta la squadra delle VL. Per il resto, ammette sempre Costa un po' sconsolato. Il progetto è fallito. Questa è la pagina del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro. Giardino di Villa Caprile, tra i 140 più belli d'Italia. Entra alla corte di Wade la signora delle Rose. Sono rimasta, dice, molto affascinata. Ma a centropagina anche qui la VL che cambia e si affida a Sacco. Via Perego dopo dieci sconfitte. Il coach pesarese dovrà fare un miracolo. I tifosi però aspettano altri due acquisti. La società si muove per uno solo. Mentre di spalla verso le regionali 2020, il PD e Ceriscioli. Questa è l'ora della verità. Stasera ci sarà la direzione del partito dove si dovrà decidere chi correrà per il posto di governatore il prossimo anno. Violenta aggressione ad un agente, dura condanna per uno straniero. E questa è invece il selfie, la fotografia del selfie con Giorgia Meloni che dice le Marche a noi. La leader nazionale di Fratelli d'Italia, le Muse, presto il nome del candidato. Dialogo aperto con le altre forze del centro-destra, ma qui possiamo vincere. Poi una stoccata alle Sardine. Le Sardine, dice la Meloni, sicuramente hanno scelto un simbolo azzeccato. Sono tutte uguali. Seguono la corrente senza eccezioni. E lo fanno per finire in bocca agli squali. E poi parla dei nomi. Dice, penso che Fratelli d'Italia abbia la possibilità di esprimere il candidato presidente delle Marche per il centro-destra. In fondo di conferme in questo senso ce n'erano già state. E dice, anche se non fa i nomi per rispetto dei colleghi della coalizione di centro-destra, dice i nomi. Voi li sapete. La scelta probabilmente ricadrà al 50% sull'ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, e il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Acquaroli, che è finito terzo alle regionali del 2015. Poi, parlando sempre delle Marche, dice, siete un territorio ricco, ma isolato. Qui bisogna puntare sulle infrastrutture e bisogna lavorare sin da subito. L'articolo del Resto del Carlino, raccontando un po' la giornata anconetana di Giorgia Meloni, che poi è andata anche a Macerata, se non sbaglio. Prima della tappa d'Orica, la Meloni ha fatto visita anche a Loreto, è entrata nella cittadina mariana dalla porta principale per poi raggiungere Piazza della Madonna. Privatamente ha incontrato il mondo cattolico, non prima però di aver parlato con il sindaco Paolo Nicoletti, e dei soliti selfie. Questa invece è la piazza, perché subito dopo la Meloni, qualche ora dopo, sempre ad Ancona, sono arrivate loro le sardine. Sardine luminose in questo caso, perché tutti si sono messi in posa per questa foto con i cellulari accesi, riempita anche Piazza del Papa. Partiti, cominciate ad avere paura, dicono loro, gente di ogni età, senza bandiere, ma con pesci scelti come simboli del movimento, fischi alla Meloni, dicono un altro pezzo di città assistito alle sue pagliacciate. Quali sono le canzoni cantate dalle sardine ad Ancona? Le canzoni che hanno fatto da sottofondo, Eppure soffia, Pierangelo Bertoli, Come profondo il mare, di Lucio Dalla, fino all'inno di Mameli, in mezzo ad una piazza illuminata dalla luce dei cellulari, la chiusura con l'immancabile Bella Ciao, cantata da tutti. E poi c'era anche Lorenzo Donnoli, che è uno dei promotori emiliani delle sardine. E adesso apriamo la pagina dedicata alla tragedia di Corinaldo. Qui siamo a Fano, 500 candele per ricordare Benedetta, danza e canzone di Ultimo in piazza. L'evento domenica alle ore 19 per ricordare la quindicene fanese morta la lanterna azzurra. E allora soffermiamoci un attimo per ricordarvi questo evento che ci sarà a Fano. alle 19 di domenica prossima tutta la città è invitata a partecipare in piazza 20 settembre, di fermarsi un attimo, un minuto, un istante. Perché? Perché intanto è bene che ci si fermi, perché il Natale non è soltanto fatto di spettacoli, di regali, divertimenti, ma anche di solidarietà e di condivisione. Fano, come tutte le città in questo caso, è una comunità, si stringe attorno alla famiglia che ha voluto fortemente questa cosa, questo momento e noi dobbiamo essergli vicini, vicini a Corrado, vicino che è il papà di Benedetta, vicino alla mamma, vicino a tutta la famiglia che non ha mai dimenticato Benedetta. E così lo faremo anche noi. Anche Fano TV nel suo piccolo cercherà di fare la sua parte, probabilmente interromperemo anche noi a quell'ora per qualche secondo le nostre trasmissioni. stiamo pensando di fare una breve diretta o comunque di far vedere quello che succede in Piazza 20 Settembre, senza andare a indugiare su volti o quant'altro, non ci interessa la TV del dolore. State sereni, sarà forse un'inquadratura larga, tanto per essere lì e per far vedere agli altri quello che sta succedendo. Quindi solo per essere parte di questa comunità. Comunque, domenica si ricorderà Benedetta come una farfalla bianca, sulle parole di quella canzone che il cantante ultimo le dedicò a uno dei suoi concerti e che riecheggerà in Piazza 20 Settembre, accompagnato da questo ballo, dove ci sarà questa farfalla, le luci puntate, eccetera. Quindi sarà un momento di grande coinvolgimento sicuramente e speriamo anche in un momento di preghiera. C'è un'altra ragazzina, oltre a Benni, anche questa ragazzina, Emma, morta, era la sua prima volta in discoteca, il padre Fazio non sapeva, dice, chi era, sfera e basta. Per lei era solo la festa del liceo, perché avrei dovuto dirle di no, dice il padre. Dice anche a se stesso, probabilmente ogni giorno, non ho nessun rimpianto. Emma Fabini aveva solo 14 anni e a distanza di un anno dalla strage il papà racconta di sua figlia, una studentessa modello, con la passione per la musica, la danza, ma anche la recitazione. Una ragazzina che, nonostante la sua breve vita, è riuscita a lasciare un segno indelebile. Andiamo sull'altra pagina, perché c'è un altro ragazzino, Mattia Orlandi, qui accanto alla mamma, alla mamma Paola. Lui è morto alla lanterna, aveva 15 anni. I genitori di questo quindicenne dice, lo avevamo educato al meglio, morto per colpa di chi non ha rispettato nulla. Perché lui e gli altri hanno dovuto subire un simile trattamento? Si domandano, e queste sono le fotografie delle vittime, delle sei vittime, tra cui anche una mamma, non lo dimentichiamo, che aveva tentato, che ha tentato in tutti i modi difendere la figlia. Mattia, una fine assurda, ma vado avanti grazie a lui. Papà Orlandi, qui siamo sul Carlino di Ancona, ricorda quell'ultima notte quando il figlio è partito per la lanterna, aveva solo 15 anni, a volte penso di non poter sopportare. Un dolore così grande. Andiamo avanti. Condannato, migrante, picchiò un agente, cercò di strappargli la pistola fratturandogli delle costole. Non si era fermato ad un controllo. La pena è per lui di tre anni e quattro mesi di reclusione. Nella collutazione, un agente di polizia riportò la frattura delle costole con una prognosi di 45 giorni. A Senigallia, salto al banco, ma colpo in soli quattro minuti. I malviventi sono entrati in azione a Corinaldo, nella centralissima piazza del Cassero. Non ci sono telecamere, però, vicino alle poste. Quindi sarà tutto più difficile. Ma il dilemma del PD, siamo sulla politica regionale, tra tese e svolta. Ceriscioli, sì o no? La notte più lunga. Stasera c'è la direzione e il programma con vista sul candidato. Dopo Civitanova le posizioni sono scoperte. Il Rebus di Pesaro. Qualcuno vorrebbe ancora che Matteo Ricci si candidasse alle prossime regionali. Qualcuno punta sul suo nome, qualcuno fa il suo nome. Ma per ora non c'è nulla di definitivo. Questa sera, però, c'è questa direzione del partito dove qualche cosa sicuramente verrà fuori. Partita la sfida verso le amministrative anche a Senigallia. Il centro-sinistra scelto lancia Volpini. Sapete, Mangialardi non può ricandidarsi. Dopo due mandati. Ieri il vertice di maggioranza senza Verdi e più Europa. Prove di coalizione anche nel centro-destra. La pagina di Fano del Corriere. Pedonalizzeremo, ma nella condivisione. L'assessore Rucalerli frena sui propositi del collega per l'eliminazione di auto e sosta da Piazza a Costa e via Cavour, quindi nel centro storico. Il provvedimento sarà preso solo dopo un confronto con le associazioni di categoria che però hanno già detto ieri assolutamente no, perché servono parcheggi. Eventualmente non si può buttare fuori le auto e penalizzare in questo modo i commercianti. Reperendo dunque parcheggi alternativi. Il titolare della delega al commercio conferma la consultazione periodica con gli operatori. Ciclabile 1, percorso protetto di 5 km. La proposta del Movimento 5 Stelle di Fano per collegare con poca spesa la foce del Torrente Arzilla al palazzetto dello Sport di San Lazzaro. bastano un po' di asfalto in due zone e luci LED con attraversamenti pedonali rialzati. Mentre sul digestore anaerobico, di cui si sta parlando e che sicuramente darà un bel da fare al sindaco e alla sua amministrazione, si parla oggi, sempre in un articolo che porta la firma di Lorenzo Forlani. È un po' tecnico, ma è interessante, perché non è il solito articolo dove si dice ma qui puzza o qua non puzza, cioè questo sì o questo no. È un articolo tecnico, però che vale la pena leggere, perché ci sono dei dati interessanti. La scelta tra Bellocchio e Falcinetto. Reginelli, che è il Presidente di Ase, dice aspettiamo la politica. Come dire, noi siamo al braccio operativo pronto, ma aspettiamo le scelte politiche. I tentennamenti del Sindaco contraddicono la politica del Comune. Reginelli spiega perché nel sito di Monteschiantello crescono costi ed impatto. Ciclabile lo coste, la proposta dei 5 Stelle, sfida la Giunta Seri, un progetto che collega l'Arzilla a San Lazzaro e che costerebbe poche migliaia di euro. Mentre c'era una volta la Fano del Conte Bracci, è un racconto di Fano come non l'avete mai vista. Un rivoluzionario, appassionato e filantropa. E' quello che emerge dalle pagine di Sovversivo Galantuomo, memoria del Conte Filippo Bracci, che è fondatore della Cassa del Risparmio, patriota, imprenditore, gonfaloniere nella Fano del 1800, che verrà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa del Risparmio di Fano, che lo edita e che lo donerà a tutti i presenti. E' un volume di 128 pagine, scritto dallo storico fanese Dante Piermattei, con la collaborazione del Conte Luciano Filippo Bracci, da tutti conosciuto come Lupo Bracci, che dal suo avo ha ereditato non solo il nome, ma anche l'amore per la storia della sua città. Mondolfo e Marotta. Il turismo sorride, titola così la pagina di Fano e Valle del Cesano e il Carlino, dati di crescita per il settore, con il segno più rispetto al 2018. L'assessore Davide Caporraletti parla di trend molto significativo e ci sono davvero dei dati importanti, grazie all'osservatorio regionale del turismo, che osserva ovviamente la stagione estiva, ha osservato il 2019, da maggio a settembre, e che ha certificato per il Comune di Mondolfo un incremento dell'8% di presenze e con pernottamenti rispetto all'analogo periodo del 2018. La storia di questo uomo, Paolo Giovanelli, 80 anni, che vedete con la sua divisa da barbiere, lo fa da 70 anni, però a Natale dice chiuderò. Paolo Giovanelli ha un negozio in via Cecchi, un solo giorno di malattia e un chiodo fisso, ovvero di dar sempre ragione al cliente, qualsiasi cosa accada. Sulla notizia che ieri ha pubblicato invece il resto del Carlino, ovvero che l'Offreda sarebbe in procinto di lasciare l'azienda ospedale riuniti Marche Nord e quindi la direzione del pronto soccorso, interviene oggi il consigliere regionale Mirko Carloni della Lega, che dice che se l'Offreda se ne va, significa che la sanità ha fallito. Il sistema degenera, si spende troppo per gli amministrativi. A Cagli invece l'allevamento suino intensivo non si farà mai. Parola di sindaco. Il sindaco Alessandri spiega in una lunga lettera perché l'attività non potrà essere aperta. sarebbe, dice lui, troppo vicino alle case e dunque trattandosi di maiali, insomma l'odore non sarebbe un granché. Il giardino di Villa Caprile, siamo a Pesaro, i 340 più belli d'Italia, entra nella corte di Judith Wade, la donna, la signora delle rose, creatrice del network famoso per eventi in tutta Europa, che parla di bellezza assoluta, di piante di pregevole valore botanico. Sono rimasta, dice la signora, molto affascinata. Il ruolo chiave anche ce l'ha la scuola. Non dimentichiamocelo che alla Villa Caprile c'è la scuola agraria. Su Via Respighi invece la strada fantasma e asfaltarla non spetta a nessuno. Ieri c'è stato un incontro con l'assessore Belloni insieme ai residenti, resta il contenzioso tra i due privati e dunque tutto è stato rinviato al mese di gennaio. Attenzione perché siamo sulla pagina di Macerata, ma può servire davvero tutti quanti perché siamo sotto le feste e pur di trovare sconti anche e soprattutto su internet ci si affida, magari si va di corsa, non si fa troppo attenzione ai siti e ai click e si rischia di finire in siti tarocchi, i famosi venditori di tarocchi. Questo signore che vedete nella fotografia si chiama Pietro Dalben ed è il consulente della procura di Macerata che è esperto in materia di contraffazione. e lui lancia un vero e proprio SOS e dà consigli ai lettori e in questo caso anche a voi telespettatori. Attenzione dice alle modalità di pagamento per esempio, perché a casa non arriverà mai il capo di abbigliamento che si crede di acquistare, ma un prodotto scadente. Come si fa, direte voi? Beh, semplicissimo, io metto una foto della scarpa originale e poi a casa vi mando una scarpa tarocca. Voi non potendola vedere lì è chiaro che poi... Però attenzione, perché c'è un'altra trappola importante, io credo che questa sia fondamentale e potrebbe essere un ottimo suggerimento per fare attenzione. Allora, un'altra trappola, dicevamo, dei siti fake, cioè quelli falsi, è data dai sistemi di pagamento. Spesso mostrano anche il logo di Paypal e di tutte le carte di credito, ma in realtà viene fuori che Paypal e Mastercard al momento del pagamento non funzionano e quindi se non vi funzionano drizzate le orecchie. E guarda caso, l'unico possibile è con la Visa. Voi direte perché? Perché Paypal e Mastercard se contestate vi ridanno i soldi, mentre Visa no. Ecco perché funziona solo Visa. E se funziona solo Visa vuol dire che lì c'è qualcosa che non funziona, che non quadra. E poi naturalmente bisogna fare attenzione anche alle pagine false che hanno la stessa grafica dei siti originali, però inseriscono scatti rubati proprio da questi siti originali. Quindi vi mettono le foto della Nike, per esempio, vere, però poi di fatto vi danno le ceofeche. Ma attenzione, dicevo, anche ai siti, al nome dei siti, perché uno non ci fa caso, perché sono quasi sempre uguali a quelli originali. Ad esempio, Moncler, uno dei siti oscurati, si chiamava moncler6.net. Chiaramente quel 6 non dovrebbe esserci nel sito originale, ma valla sapere. E quindi fate attenzione. Urbino, lavoro in centro sotto le feste, i negozianti sono furiosi, non si potevano posticipare o anticipare di qualche settimana. Dicono loro, ci stanno danneggiando, si sta scavando per garantire la manutenzione della condotta elettrica, anche se, dicono, adesso si sta andando velocemente, e per molte settimane i lavori sono andati molto a rilento. E qui la fotografia fa capire esattamente bene come stanno un po' le cose. Qui c'è la vetrina, vedete, e qua c'è praticamente la transenna. È tutto transennato, insomma, non è un granché. Nessun depotenziamento. Confermiamo tutti i servizi, dicono dall'Agenzia delle Entrate, la Direzione Generale, che a Urbino rassicura dipendenti e utenti della sede. Velocemente, garanzie per la prima casa, affollata conferenza a Fossombrone organizzata dalla BCC del Metauro, mentre da Pergola è stesa la strategia per le aree interne e si infiamma la polemica sulla sanità. Ceriscioli ha presentato il progetto ai sindaci di Alta Valmetauro e Montefeltro, l'attacco di Baldelli. Fabriano Pergola in treno o bicicletta scatta uno studio per riaprire la linea, mentre a Vallefoglia, la valle del fare e della tradizione, mostra i suoi gioielli. Stiamo parlando della Fiera del Tartufo, che inizia sabato 7 dicembre alle ore 10 e proseguirà anche per il giorno successivo, quindi domenica. Se tutto andrà bene nel fine settimana, si replicherà anche il 14 e il 15 dicembre, sempre nel comune di Vallefoglia. Anche qui il comune di Cagli nega l'autorizzazione alla Porcilaia, ha rigettato la richiesta dopo il parere della Regione Marche, per chiudere lo sport. Torna Cesena Fano, parliamo di calcio, 60 anni dopo. L'ultima sfida all'allora stadio della Fiorita si giocò il 20 dicembre del 1959, vinsero però i romagnoli. Alessandrini, che è il nuovo allenatore, che ha preso il posto dell'esonerato, dell'allenatore esonerato, ebbene proverà a rimettere insieme i coach di una squadra reduce da otto sconfitte di fila. La VL lo stesso ha esonerato il suo coach, questa volta ci prova a sacco, Perego è stato esonerato, la squadra è affidata al coach pesarese, il presidente coach dice che la scelta è stata sofferta, ma avevamo un progetto, ma dieci sconfitte ci hanno ammazzato. Crediamo che Giancarlo, appunto sacco, potrà aiutarci. Grazie per averci seguito, è tardi, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Arrivederci. Grazie.